Per questo semplice animaletto, che potrai facilmente eseguire con i tuoi bambini, ti servirà dell'impasto rosso, dell'impasto nero, dell'acrilico bianco e del filo di ferro sottile per le antenne, inoltre un pennello, un po' d'acqua e una lama liscia. Per la colorazione dell'impasto, vedi il video su Youtube. Per prima cosa, prendi dell'impasto rosso e dagli una forma leggermente ovoidale per il corpo della coccinella. Tieni presente che il colore si scurisce un po' dopo l'essiccazione. Con la lama liscia, segna il centro della coccinella. Metti via l'impasto che non adoperi per non farlo seccare. Con l'impasto nero, prepara il corpo anteriore un po' più grande e la testina e attaccale con un po' d'acqua. In seguito vengono rifinite con dell'acrilico bianco e con il filo di ferro per le antenne. Le coccinelle generalmente hanno 7 macchie nere e quindi, con l'impasto nero, ne fai una centrale, un po' più grande e 3 ad ogni lato. Per farle uguali, prepara un rotolino e ritaglia 6 pezzetti per fare le macchie laterali. Grazie a tutti! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Quando la coccinella è asciutta prepara un po' di acrilico bianco e con un pennello sottile colore il corpo della coccinella e gli occhietti. Eventualmente vai su Google e vedi le immagini della coccinella. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.